Diverso nella forma, uguale nella sostanza. Il Bari, passato sotto le cure di Davide Nicola, piace sul piano estetico ma incassa la terza sconfitta consecutiva fuori casa. Lo stop a Bologna nel posticipo dell'ora di pranzo è indigesto soprattutto per l'errore di Donna Rumma nel finale di primo tempo che rompe l'equilibrio in favore degli Emiliani. Le due squadre, unite all'ingresso in campo nel ricordo di Klaas Ingeson, si pareggiano nelle occasioni iniziali. Pericolosa è quella costruita da Zucculini finalizzata dalle ribi e sulla quale Donna Rumma si salva distinto la prima volta con un pregevole colpo di Reni nell'anticipare acqua fresca. Non è da meno l'incursione di Donati, dopo aver conquistato il pallone a centro campo, con colpo di tacco a servire Caputo, la cui conclusione si spegne sull'esterno della rete. La gara è piacevole e potrebbe sbloccarla il Bari a cavallo della mezz'ora con il tentativo di esterno di Galano respinto da Coppola e spazzato via da Morleo. La mantiene sul pareggio ancora Donna Rumma reattivo sulla conclusione al volo di acqua fresca, ma il portiere bianco-rosso tradisce quando manca poco al riposo. Ancora una conclusione dal limite, questa volta di Laribi rende il pallone una saponetta che sfugge dalle mani di Donna Rumma. Il vantaggio emiliano suggerisce a Nicola un paio di cambi nell'intervallo con gli innesti di Stevanovic e De Luca, ma è il Bologna ad andare vicino al raddoppio con la girata di testa ravvicinata di acqua fresca che non inquadra lo specchio della porta. Con il Bari proteso in avanti, in cerca del pareggio si aprono spazi ai contropiedi della squadra di Lopez. Su uno di questi Zuculini buca la difesa a destra e serve il pallone del raddoppio e della personale doppietta alla Ribi. Il Bari ci prova a rientrare in partita, ma trova sulla sua strada un coppola decisivo sul diagonale di Stevanovic. L'espulsione di Oikonomu è l'ultimo episodio della gara che riporta i biancorossi indietro in classifica e conferma la sensazione di Nicola dalla panchina. Ci sarà molto da lavorare per poter permettersi di pensare in grande.